Ciao, sono Marco Vinciguerra, dentista, titolare dello studio dentistico Vinciguerra dal 2001 e sono qui per presentarti una serie di video sugli impianti dentali. Perché una serie di video sugli impianti dentali? Per dare una risposta alle più frequenti domande che mi vengono poste dai miei pazienti, bisognosi di sistemare la loro bocca proprio grazie agli impianti. E' naturale che in questa situazione sorgano mille dubbi, mille paure in coloro che debbano sottoporsi a questi tipi di riabilitazione. Io stesso fossi nei panni di queste persone, nei tuoi panni, vorrei sapere tutto sull'argomento, vorrei avere mille rassicurazioni, vorrei che qualcuno fugasse tutti i miei dubbi. Per questo motivo ho deciso di girare una serie di video per dare risposta proprio ai quesiti che mi vengono generalmente posti dai miei pazienti, per rassicurarli, per farli sentire compresi nelle loro paure, nei loro timori, per cercare di far affrontare loro le cure di cui hanno bisogno con una maggiore tranquillità. Un video a settimana in cui ti parlo con un linguaggio semplice di cosa devi sapere per prendere la decisione di curarti. Gli argomenti che tratterò in questi video sono presenti in un libro vero e proprio che io consegno gratuitamente ai pazienti che vengono in studio da me per una visita. Nel link in descrizione qui sotto invece potrai scaricare una guida su come fare a trovare il dentista perfetto per te. Già molti pazienti hanno ritenuto queste guide che io ho preparato per loro molto utili e spero che lo siano anche per te. Iscriviti al mio canale e guarda i miei video sull'implantologia. Ciao! Grazie a tutti!